Nel Tempio della Vittoria si sono celebrate le nozze fra la signorina Giuseppina Trapani Lombardo e il professor Vincenzo Zangara, consigliere nazionale e membro del direttorio nazionale del partito che ha avuto per testimoni il ministro segretario del partito e il capo di stato maggiore della milizia. Tutta Reggio ha partecipato alla gioia degli sposi. Per l'occasione il segretario federale e i componenti il fascio reggino hanno offerto un pranzo a 2.000 bambini poveri della città.